ci dovremmo essere ragazzi scusate portate un attimo di pazienza allora il prediction è stato fatto ci siamo è stato fatto il prediction si ci sta prediction c'è e sta bello bello attivo bello carico un milione cento è però bello combattuto è bello combattuto se avete puntato su di me ragazzi vabbè c io andiamo ce l'ho qua il megafono direttamente dalla cina allora via le sedie spostiamo il tavolo un pochetto più la allora ci abbiamo qua il nostro caro jenga allora vai bisogna tirare i dati per ci stanno i dati del monopoli tra l'altro abbiamo pure comprato un monopoli nuovo oggi ragazzi fallo vieni qua ci abbiamo un monopoli nuovo ragazzi qua pronto è nuovissimo è nuovo de zecca comprata apposta per comprata apposta per giocarlo insieme a enrico che enrico sa giocare a monopoli che cazzo è qua c'è lo scotch ancora che abbiamo comprato per giocarlo insieme a enrico babba s e tu beranza branza settimana prossimo è come no no tanto per il suo primo giro se esce 11 se esce 22 sul computer monopoli plus abbiamo provato pure ma non mi diceva fai dormire questi alas quando dormi dormi il cazzo però grazie mille che gli tutti usci a grazie mille purtroppo non riesco a sentire sabato sotto dopo devo mettere uno bs apposta qua sotto mettiamo allora qua c'è stato il monopoli bello preciso questo è il monopoli classico giusto si si quello classico più classico di questo non ce n'è cazzo ma questo c'è pure deropperlo ah ma questo è il nuovo de zecca è proprio bello come si legge ragazzi anche così si legge bene tanto lo conoscono no penso io ma dai se conosce poi mettiamo una cam dall'alto mettiamo la cam la calda cam dall'alto fissa e poi con lo stream deck che switcho le cam le varie cam cc metto due cam una fissa sopra la testa non con la copro quella sopra con la hdmi che va direndo il coso quello il ragno il regnetto e una fissa stabile fissa così almeno switcho tre cam sullo stream deck sì sì ma tranquilli dopo lì dopo le luci le vediamo via vediamo sa roba attendo che questo qua mi pare che si rompe molto delicato non potesse rompere ma sono peccati ok vai via al monopoli pronti partenza vado è tra voi mette tu la cam sulla testa meglio sulla cam mia o sulla testa di mattia volete vedere sì dai secondo me è meglio sulla testa tua dai così almeno per la stringo un po semmai si stringe la voce come la stringo me la stringi te no 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 ok ma posso tenere anche così se si vede bene qua ok perfetto vai va vede normale ok sono normale io c'ho un buco sulla testa perché grazie a tutti proprio c'era l'unica live allora io ho fatto dieci vediamo mattia quando fa vai buco solo oh sei e nove nove oh che culo che culo tu vai orca miseria non lo facevi nemmeno guarda nemmeno a farlo apposta tu lo facevi questo esatto che sfiga però guarda e vabbè sono sbattuto ma buona inizi te se vede cosa è bloccato no se vede se vede se vede allora c'è inizio io qua praticamente adesso se gira la ruota no se non si va bene ah ok bisogna scegliere una banana mi piace la banana lui sceglie la banana sai che dobbiamo fare dobbiamo metterci la faccia nostra qua ci si fa stampare la piccola faccina ci sta io scelgo il pesce vai il pesce e bisognerebbe farlo alcolico sicuro ci sono tanto poi poi ci pensiamo poi ci pensiamo ma in che senso tipo quando uno perde ogni volta che uno scala di uno ma detto va buono ma che non lo so si tocca a me io qua prendo più vicino mattina scala 3 di si è tra tre a non impili blocchi non impilo blocchi che buccio di culo veramente cioè il migliore cioè meglio di così quindi non devo togliere niente niente devo solamente scala di 3 si 1 2 3 e via ok tocca a te aspetta ma ti facciamo così con la gamma qua una volta io non poi trapassa a te ma allora vado eh si che era due devi ah non impili blocchi porca troia oh ma stasera ci avevamo la mano fortunata eh aspetta aspetta a parlare allora di due io vado di qua di due quindi si uno e due va uno e due si ce l'hai lì allora tocca a me qua e un po' orco orco che cos'è orco di impila due blocchi e scala tre quindi due due blocchi di legno e scalo tre però scalo tre di legno questo questo qua non va questo è troppo duro questo 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 è duro qua è duro qua pure questo è fattibile questo è fattibile questo fa vedere ora faccia mia faccia mia c'è tutte e due devi fare sì 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 cazzo qua appena tiro però il tiro c'è pure che capito piano piano rispira poco in apnea ha fatto lo scattino è quindi adesso lo metto sopra giusto così funziona il genga oh piano passo va bene va bene e questo è l'ansia della madonna mamma mia il silenzio ragazzi il silenzio ok però scalo tre scalo tre scali tre quindi c'ho la banana 1 2 3 qua no aspetta sì io stavo qui 1 2 3 si andava bene andava bene oddio oddio santa ok mo tocca mattia però è pronti vai pronti io vediamo in pila tu blocchi scala due io scala due tre invece di che cosa sono quelli di ferro per ok ecco 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 aspetta è questo c dovevi in attimo mostruttore troppo per me che bello liscio 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 e questo momento qua è uno ok ok è un altro questo no porca miseria hai trovati aspetta eccolo 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 viene via bene tutto tutto tremo 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 madonna e scalo di due uno e due dai madonna ci sei fatta io fondagli una bottarella qua no ci si accende no perchè non vedo io ah ma che non vedo davanti si è imballato vabbè l'importante è che si vede no si vede tranquillo ok allora vai giriamo la ruota porca che cos'è non si capisce bene giro rigiro per me è più pietra rigiro 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 dai va bene allora devi impilare due blocchi di legno due blocchi di legno vai andiamo a vedere quali sono se tu ce la fai scatemi tre l'ho perso perché qua non c'è se ne fa niente la fai ce la fai tre blocchi di legno no due no due due di legno madonna dio ah ma tanto vince chi sta più in alto quindi eh si però senti lo fai eh mi sa che vinco io eh no eh si vince chi sta più in alto eh ho capito però e tu devi impilare due blocchi se tu ce la fai che succede? vince chi sta più in alto no si se lo fai a pire oh non vuole perdere dai 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 è fattibile è fattibile oh questa pesa troppo con due mani di secondarci veramente un'uomo però vabbè una mano suona no dimmi tu se con una mano solo mano con una regola e con una mano solo non lo sopiva ma posso favore così permette a posto gli altri questo sta uscito il cuorcazzo tra domina ma tranquillo eccolo vedi vedi che c'era c'era ok un altro sempre di legno concentrazione ragazzi sì perché sto a vedere quello che posso prendere eh eh c'è c'è eccolo eccolo hai visto che ce l'hai fatta vado a caffè ora devi salire di tre ti sei qua ma che tu sei grullo ti sei qua e sali di tre uno due tre piano a te ok cazzo che roba tocca a te grullo qui la vedo molto buia qui la vedo molto buia eh sì lo so lo so vado eh se mi viene quello non impilare i blocchi dimmi che non impili i blocchi porca bia deve impilare un blocco di pietra uno solo però uno solo di pietra eccolo guarda il culo che culo di merda guarda il culo che culo di merda e scalo di due uno e due chi io ok tocco si qua ok scalo di uno però un blocco di legno ma sempre di legno tu finisci a paura guarda se no me ce l'hai da qualche parte ce l'hai da qualche parte io col cazzo che te l'ho dovuta un blocco giusto? si torco dio conservatelo io sto qua io scali di uno di uno di uno eh sei quasi in cima eh indosto ti stai qua giù io sto bassino dai poi si perde su che cazzo oh me la sta proprio a guffa eh andata ah dicono che non posso toccare gli altri pezzi ok eh rigira rigira ok intiro un blocco però de ferro ma porca troia lo ferro è quello che sta più più libero di tutti si si uguale uguale ma tu non legno mai porca troia toh guarda là guarda là guarda là colè e dai però ma non sei poco ci guarda là che bucio di quel culo rotto di merda e scalo di tre che culo rotto uno due tre mi metto di nì maremma bucaiola se non pare maremma santa bucaiola ora si vede giù fa fuori guarda si vede di fuori ah si si è vero vado porco dio però ritiro 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 eh ritiro di nuovo ok sempre di legno sempre di legno oh santo cielo in dove l'andrò a prendere ragazzi in dove è in dove in culo eccolo eccolo cazzo che roba oddio uno solo però scala di uno si e impira un blocco piano perché se lo fa adere e poi tocca agli altri oh ah cazzo questa è la partita più intensa che abbiamo mai visto oddio mazzo voglio sì dopo voglio aspetta impira due ah giusto di uno è vero qua quest'altra parte oddio qua ok allora vai ci vuole sangue freddo e anche mano ferma eh la madonna scalo di tre di ferro ma sempre ferro cazzo e te sempre legno in più un blocco 60 un po' no non bisogna 60 60 non funziona cazzo ve lo sai che non è mina tanto una cosa bella questa eh no invece si guarda là che culo del merda ma che culo porco ladro oh una volta ogni tanto lo posso avere un po' di culo io eh ma una volta ogni tanto dio fa la nera e scalo di tre attivazioni di tre dio no basta uno due tre qua e mi supera pure vai mi supera pure cazzo dai cazzo e mi supera pure pensa la madonna ok giriamo se no se ti viene pinocolegno mi vende a ridere il giro il giro ok ok un blocco impila un blocco scali di uno di pietra di pietra perfetto guarda lì liscio liscio ma per cose manio che cazzo di roba è tutto torta guarda nonno guarda meglio è torta guarda lì come è torta la torre è greve è greve ma io la vedi la torre come sta già vista già vista messa proprio messa proprio quella di pisa uguale più o meno di uno giusto yes voilà cazzo che roba signore allora ci va io ah legno ai 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 які legno impila due blocchi del legno pero scali tre eh si però intanto devo impila due blocchi si e del legno poi vai si si tocca tocca vai io tocca 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 si si lamano ce la devo fa auguri del legno No Questa viene Viene giù La torre La torre viene giù Mattino Zitto 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 Viene giù la torre viene giù Zitto zitto Viene giù raga Viene giù Pronto Matte? Viene a vedere di là Perché qui c'è pressione Oh mio dio Qui ho toccato il tavolo Perché qui vi è in giù tutto Vi è in giù tutto Non so come Non so come Non so come Ok un altro Il tuo cazzo lo raccattavo un altro Cazzo Porca troia E questa come la tocchi Eh questa come la tocchi viene giù Mo se ce la fa davvero Ve li vedete dopo No qui no Eh di no Qui no Secondo me Aspetta Eccolo eccolo No impossibile Dov'è Mattia Ma come cazzo si regge? Come cazzo fa a reggersi? No no Non c'è il bilanciamento qua sotto Vedi? Porco dio Zitti tutti Porco dio Zitti tutti Tutti zitti Porco dio Uno Due e tre Porco dio Capo io E pucci E come cazzo si regge? Come cazzo si regge questa cosa? Non lo so tutta rotta Tutta storta Fagliela vedere Tutta corta è? Guarda lì Guarda chi sotto Lo so Guarda qua Ma guardate qua Vedete qua da parte mia qua Tutta storta cazzo Come cazzo è raddrizzimo questa? Come fai? Guarda la parte mia qua Dalla visione mia Giù Qua Cucci Come cazzo fai? C'è Cazzo Vabbè Muti ci voglio vedere Dai non impirare nessun blocco Porco ladro Ah beh impili in blocco Ah vabbè Ok Non impilo blocchi E scalo di tre Sì Do tu stai? Eh dove stai tu? Poi è complicato anche A mettere la pedina Allora qua Mettose loro bene Questo su la cazzo Eh sì Ok Vai gira Tocca a te Grazie 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 Un blocco di Un blocco di ferro Un blocco di ferro E scali però di tre Mi sa che se fai questo vinci? No Sì sì, sei arrivato in alto? No, uno, due e tre, vedi mancano ancora Non ci credo Matti Ah invece sì Aiaiaiaiai Mattei Buvaiolo E si vinge E si fa la vittoria poi si Che si fa C'è la cazzo Merda E si vola Merda avevo fatto anche il miracolo avevo fatto porca miseria più di miracoli aveva fatto cazzo un'altra partita ragazzi volete ne facciamo un'altra così c'è tempo ne facciamo un'altra o un'altra o vado a giocare fortnite con le sab f per mattia f ci piace sì vai sì io dimmi te prima quale c'è dark a parte in chat c'è sempre fatto a posto cc ma non avevo fatto un miracolo avevo fatto cazzo poteva anche voglio fare bene ma non è venuto giù madonna come è venuto giù maronna maremma buca iona maria non so ha visto che roba ragazzi ma non c'è però avrebbe avendo un gioco che succede tutto possibile non te lo aspetti poi rimane invito un proprio contro la fisica sto gioco e contro la fisica contro la fisica vabbè la fisica della sempre dai vabbè ma si è fatta di oddio anche ma non è che era tanto messo bene eh era parecchio invito di chi gli dati se aspettiamo il prediccio vai io non c'è prima di prima cambiamo la batteria bravo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Non lo so, posso scappurare? Cici, allora iniziamo, vai, lanci prima te o lancio prima io? Prima tu, vai, lancio io? Davvero ti faccio due, eh? Porca miseria, c'ero uno, sei? Uno e cinque, sei, vai, fammi, fammi, vado, tiro i dadi, sette, come prima, dieci, nove, sei e sette, vabbè, vado, ok, dacca a me, vai, vado. Ok, scala tre, no, scala uno, però, scalo di uno, blocco di mattoncino e impiro di uno, quindi mattone, perfetto, mattone. E vabbè, questo è preciso, dai. No, no, è easy, il problema è dopo, è scalo di uno, quindi uno qui. Hai preso il mio? Ah no, ovvero, oddio, occhio. Vabbè, lascialo così, lascialo così, lascialo così, non c'è problema. Lo so che è peggio. Vabbè, dai, lo lascio così. Sì, sì, lascia così. Vai, gira, tocca a te. Ok, andiamo. Scala due, no, impiro due blocchi, deferro e scala due. Allora, io invece di partire dal basso, a questa ciladana, a questo no. Questa la decilade, Mattia, guarda. Crevendo, questo è il bucaiolo, oh ca diavola. Uno. E due, guarda là, preciso, l'ha preso preciso. Scala di due. Di due. Mi metto di qua, va. Sì, sì. Vai. Il bucaiolo. No, il prediction è stato fatto, non lo so meno. Sì, sì, l'ha fatto, l'ha fatto. L'ha fatto il prediction mod. È stato fatto? Torneo verso le 22.30, mi ha detto Omidol, però potrebbero essere anche le 23, mi ha detto. Allora. Buonanotte Enrico, buonanotte. Buonanotte Enri. Buonanotte. Buonanotte Enri. Allora, ci sta... Da, che la parte è prediction. Sì. Ok, qui mi ha detto che c'è. Porco diavolo. Ok, impila un blocco, però scalo di tre. Quello di ferro. Quello di ferro. Ok. c'è piano appoggialli quindi scavami tre cazzo non se le va 1 2 3 quindi io sto qui e mattia sta giù vai gira scalo di due di pietra però di pietra impiro un blocco e si io voglio partire sempre dall'alto dai che mo se levano i cosi dai si cura il problema è dopo che fare lasci così dai questo è facile guarda la come bene via perfetto bene via preciso perfetto uno solo si si scalo di due due quindi 1 e 2 ah dove sto io 1 e 2 metto qui a fianco eh questa è interessante la situazione è molto bella dai scala di 3 non impiro blocco non impiro blocco in scala di 3 di 3 di 3 cazzo io veramente se senza parole 1 2 e 3 toccati la faccia della disperazione impiro blocco scala di uno o sempre di un eh sì le legno eh sì le legno porca troia tac che culo che culo non impili i blocchi che culo io boh praticamente questa cosa sta a effa salute con questa scala matti allora 1 giusto sì sì a troia che fra gli arder che tra gli armini tra gli armini è un dry arder assurdo vado nooo 2 blocchi di ferro però scali di 2 però scali di 2 di ferro 2 di ferro dai è fattibile dai è fattibile questi le fondamenta eh no le fondamenta ma rendo no sì è fattibile è fattibile è fattibile uno è questo ed è fattibile ok l'altro dopo intanto togilo non c'è va e ce l'hai sì ce l'hai sì oddio piano è fattibile è scalo di due dove stai? io sto qua quindi uno e due uno e due vai metti lì sopra qua easy cazzo che tryhard non impilare i blocchi prima la faccio a tua ok scala uno vai di legno vediamo un po' questo proprio no e io lo so qual è questo va bene ma questo va bene dici? sì sì perco demonio guarda là scalo di? uno di uno lo stavo? qua ma dopo vi saluto tutte le sabbe vai cazzo toh dio oh no ritiro proprio ritiro ritiro è proprio lì oh ma è sempre lì cazzo ok ok scala di uno legno però legno impili un blocco uno solo legno ma qua è complicato ovvio è sta sui tavola perché qui se si barcolla ma qua è complicata la situazione sai perché? da me da me qua è complicata la situazione perché qua io non so cosa impilare eh sono stato fattivo sono stato eh allora se io tolgo questo che in teoria non viene via però se levo questo è fattibile questo però il problema è che questo qua non si tocca questo qua sotto è impossibile qua è la fondamenta io volevo pensare togliere questo qua al centro che in realtà questo al centro va bene perché qua e qua ci sta la base no? e questo qua in teoria dovrebbe venire fuori sì il cazzo perché si va cura porca troia questo viene via però davvero? eh sì eh no mi trema la mano la porca puttana uno solo? sì occhio a mettere perché qui si sta già iniziando a diventare un video oddio santissimo ci vai di cattiveria? sì sì di qua sali di uno guarda proprio qui di qua qui madonna qua si è un po' interessante la situazione eh qua 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 è parecchia rossa qua c'è qua un problema eh qua c'è qua un problema devo fare il miracolo mo faccio il miracolo sì ma vediamo un po' il miracolo di pietra di pietra no un mattone è scala di uno è scala di uno vediamo questo che culo che culo olè non ci credo dai non può essere invece credici invece credici tac non ci credo è impossibile agile veloce e indolore ma non è possibile vado vai dio fa la neve scala di due di pietra di pietra questa è sempre sopra di me ma di tanto anche questo non va occhio Mattea sta sfittando questo va bene questo non so come ma questo va liscio come l'olio questo va liscio come l'olio questo va liscio come l'olio non so perché però perfetto non domandiamoci togliamoli e mettiamoli su scala di due di due sì andiamo e metteremo la mano non ce la faccio ok il silenzio della concentrazione il silenzio del tryharding che fa eh ohioi allora io dai impida tre blocchi io due blocchi io quello viola sì no è scala anche di tre eh no ma vieni eh no porco uno due e tre casca la torre porca Eva pepe 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 ok è possibile e invece è possibile dio due blocchi di pietra due blocchi di pietra dai ancora è fattibile ma che il miracolo fa aspetta 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 che ci sono io devo scendere di uno a no ci si fa ci siete devi scendere di uno per farlo capito sì per te ok e ti metto qua ok visto che ce n'è uno ce n'è oddio guarda lì com'è stato oddio ok guarda oddio ok quindi in modo vado scaliti uno siiii hai visto che ce l'hai fatta madonna santa che cazzo tesco guarda lì come l'hai messa non sta torre 1 2 e 3 cioè vabbè vabbè speriamo che si so la botta di culo come prima guarda spero che no due blocchi suoi due blocchi di pietra e sky 1 vai cazzo vai bucaiologo uno ce l'hai dai uno ce l'hai ma che culo del merda come fai non lo so ok io non ce l'ho fatta eccolo eh ti guarda la maronna veloce agile indolore scade di uno e si mette di a siamo pari eh e la maronna che cazzo te è combattuta eh aaaaaaah aaaaaaah combattuta eh combattuta nooooooo scade di uno e non impili niente è fragile eh si infatti sto a pensare è fragilissima cioè sto a pensare che questa torre da lì questa torre se ne sta piandata non è qua no il punto critico è qui cioè è tutta vuota eh ma da parecchie parti è tutta vuota è tutta vuota cazzo dai vado 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 si si però c'è stata la derivata che mi fanno mente si vai favol porco porco diavolo morto e come prima di pietra di nuovo ahahah e questa me la godo tutta però questa me la godo questa me la metto qua seduto e me la godo ahiaiaiaiaiaiaia questo no questo si muove eh Ma pensa tu la maronna Ok, uno c'è Uno c'è Eh, ce ne sta pure un altro, ve lo vedo pure No, 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 quello no Eccolo Oh, quello La maronna Madonna, santissima, ragazzi Scalo di uno Porca maronne Ok, di qua Ma tu pensa Dai, stanno su dalle mani Dai, non può essere, non ce credo Dai, non può essere, non ce credo A questa città forse posso Forse posso a questa città Incredibile, ma vero Vincerò una volta in un gioco Forse, eh Non impilare tre blocchi Un blocco Un blocco di pietra Un blocco di pietra Hai già paura a toccare Vai su, vai su Testa da cazzo Questo è preciso Sta qua sotto, guarda Sta qua sotto, bello preciso Guarda Sotto, guarda come viene via Perfetto Oh, che sborrata Dove lo metto? Dove lo metto però questo? In che senso dove lo metti? Lo devi mettere per forza su Con serio? Facci piano La trema, eh? La trema, sì Di uno Ehm, sì Oh, santo Dio Madonna santa Che mani de fata Che c'ho Come gli elefanti, cazzo Oh, mio Dio Ti metti qui Guarda qua Qua? Che? In apnea, Matti In apnea Dai, come fa ridere Dai, io faccio Lo giocare a cucina Questo cazzo è concentrato Dai Dai Su Il piccolo Dove è? Dai, fammi un attimo Sto zitto Ok In apnea, cazzo In apnea Vai in apnea Giro, giro Lo sai ora Mi fate la bene Perché cadrà sicuro Porca droga Tranne se Ai 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 Due blocchi I miei due blocchi De legno Però scali Però scali Solo se ce la fa Uno, due, tre Ci sei qua, c'è Matti Questo no Eccolo Ce l'hai? Eccolo Dio, fa la neve La madonna Ma che se la magna Ok Incredibile Ma non è possibile Eh, tu gli tocchi Dove tocchi, docchi? Ma ti Nelle maiala Qua vibra tutto Oh, 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 oh Porco ladro Non ci credo No, non ci credo mai nella vita Inquadra bene Perché mi sa che Non ci credo Cade Sta per cadere Sta per cadere No, è perché No, è perché Oh my god Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Oh, oh, ci ha toccato il tavolo Perché qui viene giù Oh mio dio Matti Scalo di tre Oh mio dio Aspetta perché ancora non è finita Uno, due Tre Qua Oh mio dio Matti Ma che cazzo sta succede qua Ma è tutta bucata È tutta bucata Ma figheni Tutta bucata Non so È vero, è vero, è vero Occhio Io farei questo di qua Vai Sì, sì Occhio non Dio farà neve Un blocco Un blocco Proscalo di tre Proscalo di tre Di pietra Eh no, di ferro Scusa Di ferro Sì Toglimi Vabbè Mi butti giù di uno Bene Mi metto io Eh sì Come cazzo vai Dov'andare più giù di te Perché ci siete lì Uno solo? Sì Madonna come ci fai Attivo Ok Tre Tre giusto? Scala tre Sì L'ansia ai nervi Occhio Occhio Un, due, tre E' toste E non è facile Perché c'ho E non è facile Addio La nere Occhio Sto sui tavoli È leggerissima È instabile Instabile come la merda Eh lo so Ok Andiamo Impini due blocchi di legno E scali Tre Ma è lo scalo Ma è lo scalo Porca porca Due blocchi di legno Non è tosta E non si vuole È finita raro È finita raro È finita raro Questo qua sotto? No 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 è impossibile Se levi quello Come fa? Non lo so Dovresti provare Tipo questo qua su Questo qua O qui dove si deve Ma tanto è impossibile Questo qua di legno Questo qua Il problema sia No 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 Guarda là Debole Debole No Troppo debole Mattina E ne la fai E niente Io ci ho provato Prova Tocca qualcuno Toccava tutti Qua sopra Non so se ci potrebbe fare Vabbè dai Io 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 Buono buono E mo quello lì Per forza Porco Dio Porco Dio Vabbè Porco Dio Do cazzo sto qui? Allora Uh Due E tre Eh pure quando Impiri questo coso E quando scagli È difficile Porca Madonna Ma che cazzo Stiamo a fare Mattina Non lo so I miracoli I miracoli Vai Andiamo Vediamo Vediamo Non impilare blocchi Qua devi venire Impilo un blocco No 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 Lo ritiro Lo ritiro Eh sta proprio Porco Dio Eh Di legno Eh ciao Matt Tra tutti il legno Tra tutti il legno No no io non mi arrendo No no Eh lo so Porca miseria Ma tu senti sta roba Quando dormi? Sì Ma non so se è Dei porca miseria Ma hai visto Lo sentivo Mi vibrava Il pavimento È una maronna Eh non è facile Ragazzi Guarda Perchè 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 Che si è fatto Ma non so Ma non so Ma io Uno solo Ma no Uno solo No Non so Davvero Cioè questa è la partita La più difficile Che abbia mai fatto Mitami Perchè 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 Porca miseria Mi sembra cattivo Scali di quanto? Di uno Di uno Stai qui? Ti metti qua Se lo metto io Eh Ma cosa si ha barcollato Ma cosa si ha barcollato Eh Mo ti vedi bene il legno Mo' è impossibile Mo Cazzo Taccate Ma è bello Questo E non impilare i blocchi Guarda bello Porco dio Porco dio Non lo faccio Non lo tirare anche potente Porco dio Non l'ho fatto apposta Giuro se non li manco Scali di due Oh 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 Stabile vero Ah Questo Questo dicevo Senti Senti Aspetta Aspetta Minchia Tu cosi sente Quando dormi Si sente No ma Di là si sente Proprio Bello più potente Ah più potente Eh Si Cazzo Io Porca Legno però Prova questi No 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 È bellissima Cioè se muove tutto Secondo me dovrei provare tipo questo No 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 Questo è stabile No 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 Grazie a tutti Senti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Se lo metto a destra Diventa più instabile Se lo metto a sinistra invece Ci stanno più pezzi Però in realtà serve più a destra No, no, più faccio la sinistra secondo me Ecco, via ora Questa è anche il tasto dolente Questo è veramente Mano di fata Mano quando cerco il clitorio che sono una ragazza Giusto, il punto c'è Grazie a tutti Devo infilare questo dentro il buco No, ma non ci va Pesano che cazzo, mamma mia Di una pesantezza ragazzi Inaudita, veramente Cioè è lunga davvero ma è partita Si sta davvero durando Incredibile ma vero Ma si sta durando Tocca a te Tocca a te Ma povera Impila due blocchi De ferro però Si, quindi ferro è già più accettabile Tipo io mi sposto qui Perché questo mi sa che Si, si, questo è fattibile Quindi mi sposto di un Oddio Mi sposto di uno in giù È la regola Ma è difficilmente pure sta roba Si, ma inquadra bene Perché mi sa che vien via Si, si Mi sa che vien via C'è vien via Nel senso La torre Quanti ne devo togliere? Due? Dio È difficile Questo è il bello complesso Si blocca È dritto per dritto No, perché tu lo fai Tu lo blocchi Tu lo tiri Tu quando lo tiri Lo tiri verso giù Lo devi tirare dritto per dritto Capito? Da quest'altra parte Ci provi? Si Cazzo no No, 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 Matti Te conviene di rimettere a posto No, cade Cade proprio, dici? Sta cadendo, mi sa Rimettere a posto? No, no, no Cade Non gliela fai, Matti Staccati Non gliela fai Non la sto a tenere io Cazzo Vai, Matti Vai, Matti Dio, 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 dio Cazzo La partita più combattuta Che abbia mai visto in vita mia Giuro Pro bella Pro bella davvero Pazzo Porca 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 Troia Matti Quando l'ho sentita la sto fattene io Non tu dite le sto fattene La sto fattene è Porca Troia Buca Iolo Cazzo Che sfiga Che sfiga Cazzo Eh, oh, io duro Ma l'hai visto? Duri? Duri Duri più sicuro a letto Perché, oh Eh, tanta roba, eh Ma Uff Ma dò che ansia Sto ciò Maronna Maronna Allora Che volete fare? Ragazzi Io me ne vado sopra Che a mo' abbiamo una bella partita Fortnite con i sub Sì, sì, sì Un'oretta Un'oretta e venti Di gioco con i sub Fortnite E poi Bellissimi Ci vediamo Col torneo del Formula 1 Carico, cazzo Carico, sì, cazzo Carico, cazzo Carico, sì Dai, raga Ci vediamo tra poco Ci vediamo tra pochissimo Del sopra Arrivo